Se potesse scegliere, preferirebbe che il cristianesimo fosse vero oppure che fosse un'illusione come lei crede? Boh, no, credo mi piacerebbe un al di là di ritrovare le persone a cui ho voluto bene, anche i miei animali a cui ho voluto bene. Però non credo alle favole e quindi loro e la figlia una bacione. No, d'accordo, però... Chissà che affollamento ci sarebbe, però. Quella mamma... Questa serata è da Annali per il modo con cui ci siamo trattati con molto rispetto, ecco, almeno questo. Anche se si doveva prendere appunti. No, no, assolutamente.